C'è molta indogneria in questo progetto e tutto quello che è stato fatto è che è stato freddiato. Questo premio noi lo sentiamo molto nostro, sono vent'anni che lo sosteniamo anche economicamente, tra l'altro, sono vent'anni, e quindi siamo ancora convinti, anche con rinnovato orgoglio, vogliamo sostenerlo, anche perché siamo convinti che il premio rappresenta per la categoria nostra un significato particolare, la presenza di ingegneri nel campo dell'estate. Grazie a tutti!